E andiamo! Pronti! La ricchezza è un peggiorno che non finirà, metti da parte questa tua tristezza, tanta condol la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dare la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, pochi veri amici miei, mai da solo in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Finale! Questi sono gli amici miei!